Eccolo il boss, Peppe Maniglia, ieri no. Un pezzo da 90 dell'Andrangheta che ha attraversato lustri e territori, che è stato il collante tra le indrine della Locride e quelle della dorsale appenninica. Un uomo chiave che da gioiosa ionica avrebbe condizionato gli equilibri mafiosi di Mezzacalabria, dalla prima faida dei boschi ai traffici di stupefacenti. Ieri no, oggi, finisce al carcere duro. Il ministro Orlando ha infatti accolto la richiesta partita dalla direzione distrattuale antimafia di Reggio Calabria, che l'aveva arrestato già nel settembre del 2014, nel contesto dell'operazione denominata Ulivo 99. Nel successivo processo, definito in primo grado davanti al Tribunale di Locri, si è buscato 30 anni di reclusione. Erede di Don Ciccio Ieri no, il patriarca che avrebbe ospitato perfino Michele Navarra durante la latitanza, prima di essere assassinato dai corleonesi, Giuseppe Ieri no è il fratello di Vittorio, già coinvolto in diverse vicende giudiziarie, la più nota quella relativa al sequestro di Roberta Ghidini. L'operazione Ulivo 99, che ha scardinato un sistema di narcotraffico in tessuto tra la Romania e la Bolivia, passando per la Calabria e i Paesi Bassi, e così il 41 bis, potrebbero costituire il capolinea della sua storia criminale. Da Reggio Calabria per la CINUS24.